Non c'è che cosa che c'è con una bambina Scusa, ciao C'era un cane Qui ci sono alcuni animali Molto pericolosi I cani sono pericolosi Qua lo sai che sono pericolosi C'è un cane Che sta facendo la guardia La guardia E lui E lui Vi dico Vi dico che la bambina si era vincita Pappagali La bambina Il cane è iniziato a bagliare Faccio vedere, eccolo qua Non si deve avvicinare Nella barra dei cani e nella barra dei pappagali Nessun animale Non è avvicinato Perché gli animali sono pericolosi Però non si trattano Quello è il cane E questi sono i pappagali Che facevano la guardia Vi faccio un altro video, eh Dai No, appa È molto bello